Adesso andiamo a mettere qua sulla guancia, aumentiamo un pochino, vi faccio un lato solo, ragazzi perché sennò non ci passa più, in questo modo, adesso prendiamo ancora un pochino di pasta di zucchero, non tanta, e la andiamo a sistemare qua, in questo modo, avete visto l'ho messa qua, uniamo sempre i lembi, mi raccomando, altrimenti poi avete la pasta che vi gira per tutta la faccia, così, ripeto, non guardate se ci sono o meno le giunture, ok? Adesso dobbiamo fare gli occhi, quindi ci prendiamo delle palline di pasta di zucchero, mi raccomando non devono essere enormi, altrimenti vi vengono gli occhi da glaucoma, e lo inseriamo all'interno in questo modo, con sempre della pasta di zucchero color carne, la stendiamo abbastanza sottile, tagliamo, sottile ma non troppo, mi raccomando, perché sennò non viene, e andiamo a, qua ce n'è troppa, quindi facciamo così, ok? E andiamo a posizionarla qua, in questo modo, ok? L'alternativa è che voi facciate una sorta di lenzuolino e lo tagliate come abbiamo fatto prima per la bocca, quindi, allo stesso modo, andate a fondervi la pasta di zucchero in modo che non ci sia troppa giuntura, questo può essere un buon metodo per cominciare ad allenarsi per chi vuole fare modeling, ok? Avere un punto, io intanto ve lo faccio vedere man mano, avere un punto di riferimento, ok? Da cui poter partire, così. Adesso dobbiamo fare la parte, la palpebra superiore, quindi, per fare la palpebra superiore come abbiamo fatto per la palpebra inferiore, con un pezzettino di palpebra, quindi, come abbiamo fatto sotto, appoggiamo, ovviamente qua abbiamo un eccesso pazzesco, quindi, tagliamolo via, ok? In questo modo, ora, così. Chiaramente che voi stiate facendo una donna, un uomo, o una persona anziana, cambieranno i quantitativi di pasta di zucchero, cambieranno le, come si dice, la fisionomia. Io, in questo momento, sto semplicemente facendo un viso, ok? Ok? Ok, così. E amalgamiamo le due cose. Dopodiché, con, direi, un pennello piatto, andiamo a scostare un pochino la palpebra, e, sempre col pennello da pittura, rifiniamo la palpebra superiore, in questo modo. Scaviamo bene qua, mi raccomando. Così. Ok. Vedete, intanto, come sta prendendo forma? Ve lo faccio così, non per altro, ma perché, sennò, vi svia la... Ecco, qua, vi ricordate quando volete occhio, che non vi venga l'occhio troppo in fuori, da glaucoma? Io forse l'ho fatto fin troppo, avrei potuto usare una pallina un pochino più piccola, di pasta di zucchero. Facciamo l'arcata sopraccigliare. Quindi, sempre con pasta di zucchero, color carne. Andiamo ad aggiungere... Qua, cerchiamo di farlo entrare dalla palpebra, così non abbiamo il problema di dover coprire alcuna giuntura. Ok? Quindi, così... Scusate, ero troppo in basso. Qua. Con il pennellino da pittura. Finiamo un po' la forma. Eventualmente vi potete aiutare con un po' di CMC o di gomma gradante. E andiamo a rifinire tutta la parte, così. Portiamo in avanti il mento, possiamo chiudere la bocca, se volete, oppure riaprirla, in questo modo. Questo è il... In questo caso il profilo. Possiamo tirare... Un pochino in su il naso. Possiamo creargli... Una gobetta. Insomma, potete fare ovviamente quello che... Eh... Che volete. Ok? Il mento lo possiamo portare... Un pochino più in... Avanti. In questo modo. In questo modo. Stando ovviamente attenti a non deformare il tutto. Però in questo modo voi avete già un punto di partenza. Quindi vi create lo stampo... Con lo stampo vi create il teschio. E poi sopra il teschio vi andate a costruire il viso che... Che preferite. Ok? Io ora, vedete, lo sto... Lo sto anche cambiando. Cioè, fate quello... Esattamente quello che volete. Se qua è troppo... E vi sembra troppo... Maschile... Non facciamo altro che... Aggiungere... Un po' di pasta di zucchero in questo modo. Ammorbidiamo... Questa parte. E... Aggiungiamo... Un po' di guanciotta. Così. Mantenendo però sempre... Un punto di riferimento. Ok? Che io posso anche fare... Così. Lo ammorbidisco un po'. Faccio qua. Così. Con il pennello... Da pittura. Lo vado... Lo vado... Ad ammorbidire. Questo... Anche. Ok? Sto cambiando... Proprio la... Fisionomia... Di questo viso. Quindi... Così. Così. Creiamo... Un po' di... Borse. Comunque... Poco poco... Ma le borse sotto gli occhi ce le abbiamo tutti. Così. Così. Possiamo ammorbidire un po' anche l'arcata sopraccigliare. Questo è quanto. Ecco qua. Ve lo copro perché così fa veramente un pochino impressione. Potremmo aggiungere ancora un po' di pasta volendo qua sotto per aumentare quello che è lo zigomo ma in maniera un pochino più morbida rispetto a prima. E allora possiamo aggiungere un po'... Ora voi vedrete con delle ombre anche un pochino più particolari che sono quelle delle luci ma... Vi garantisco che... È molto più morbido rispetto a prima. Ma... Abbiamo... Sempre... Comunque mantenuto quelle che erano le proporzioni iniziali. Ok? Ecco qua. Quindi... Lo mettiamo online entro... Direi... Entro pochi minuti. Il tempo di chiudere la diretta e riorganizzare un secondo la scrivania. E vi metto il... Il mold online. Per rispondere alle vostre domande perché sicuramente me lo chiederete ma a parte che sul sito ci sarà scritto. Vi dico subito che il teschio è circa 6 centimetri e mezzo. Detto questo io vi mando un bacio, un abbraccio. Ci vediamo domani sempre qui alle 2. Eh... Ho un'altra novità per voi ma ve la faccio vedere domani. Mandatemi le vostre domande per qualunque cosa io sono a vostra disposizione. Grazie per essere stati qui. Un abbraccione e buon proseguimento. Ciao! Baci baci! Ciao! 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 Ciao!